Musica Ci siamo? Guida il via! 3, 2, 1... Pronti via! Prontiti! Vai l'olio! Alla 14! La macchina del presidente di giuria, gruppo praticamente compatto, qualche allungamento la parte posteriore, l'abbiamo visto in testa... Prossimo passaggio traguardo volante, prossimo passaggio traguardo volante, attenzioni concorrenti al prossimo passaggio traguardo volante, avanti, avanti l'emoto, l'emoto più avanti! 69 e 32, 69, quindi dice questo traguardo volante... Senti, è... Questo fantastico è un gatto dal numero 68. Capaccioli Leonardo. Grazie per la visione. Grazie a tutti.